Lei prima ha parlato delle piste ciclabili, della necessità di andare in bicicletta, di nuovi mezzi di trasporto. Che cosa può dirci del traffico? Del traffico di Empoli, come prevedete? Sì, il traffico di Empoli, come già dicevo, c'è la parte della cellabilità che tra l'altro fu presentata anche a Cinquannorzono da questo attuale sindaco. Quindi fu presentata tutta una serie di piste ciclabili, tra l'altro bellissimo, io mi sono letto tutti i protocolli, non si è veramente fatta bene e poi purtroppo è rimasta sulla carta. Quindi quello che non vorremmo fare è mettere in atto poche attività ma portarle sicuramente in fondo. Mi ricordo che tra una di queste c'era il fatto di poter permettere a chi andava in bicicletta di attraversare il Ponte dell'Arno che collega Sovigliana e Empoli. Ecco, lì già è difficile attraversarlo in auto, figuriamoci in bicicletta. Io sfido chiunque a attraversarlo in bicicletta senza rischiare la vita. Quindi sicuramente continuare a svolgere l'attività per fornire delle piste ciclabili ai cittadini. In più dare l'opportunità soprattutto a chi sta vicino al centro di avere parcheggio, di avere parcheggio diciamo non a pagamento perché alcune persone appunto si ritrovano, non solo, anche commercianti, nonostante gli sia dato uno spazio vicino ai palazzi delle esposizioni, comunque a dover andare a spostare l'auto o comunque a metterla a pagamento. In più di fornire parcheggio come è stato fatto per la stazione, magari anche a più piani, ma che queste tutte le volte non debbano essere messi a pagamento, soprattutto su persone che sono costrette ad andare a lavorare fuori di Empoli perché a Empoli purtroppo tutto questo gran lavoro non c'è. Ecco e arriviamo quindi ai servizi per i cittadini, io però prima devo avvisare voi e i nostri utenti che non è arrivato Fabrizio Frosini, la nostra trasmissione durerà quindi nove minuti meno, si concluderà prima. Se date delle risposte brevi, diciamo entro i 40 secondi, riusciamo a fare altri due giri. E ripartiamo da Massimo Giacomelli, i soldi ai comuni arrivano sempre meno, i comuni sono sempre più in difficoltà, siamo in periodo di crisi, l'erogazione dei servizi ai cittadini. Come si può fare e di che cosa c'è necessità? Secondo noi, appunto a lista civia 5 stelle beppegrillo.it, è importante creare un circo virtuoso. Io tra l'altro faccio teatro e improvvisazione, è una cosa che difficilmente riusciamo a trovare a Empoli, mi è toccato spostarmi in qualche modo su Firenze per creare dell'attività. Queste attività a Empoli sono richieste perché effettivamente quando c'è qualche tipo di attività i cittadini di Empoli rispondono bene, potrebbe creare sicuramente un circo virtuoso per portare anche più in qualche modo anche soldi all'interno delle asse del comune e poi possono essere investiti in quelli che sono servizi ai cittadini. Quindi per noi è prioritario comunque creare attività, creare attività che possano portare al comune di Empoli anche altre risorse che possano essere investite appunto sui cittadini. Sempre sui servizi per i cittadini. Massimo Marconcini? Non possiamo sempre trincerarsi dietro a quello che fa o non fa un governo, sia di destra o di sinistra, perché se no in comune potremmo metterci un ragioniere che gestirebbe il bilancio in una maniera economicamente perfetta. Noi dobbiamo rivedere anche il modo di vedere il bilancio. Siccome a Genova lo stanno facendo e l'amministrazione è di centro-sinistra, vedere se questi bilanci sui quali poi ci innestiamo sempre sullo storio possono essere rivisti per vedere se ci sono delle cose che non funzionano. Andare a cercare risorse, mettere in campo degli uffici che sappiano come è stato fatto quando io facevo all'assessore alla Polizia Municipale di andare verso la regione e verso l'Europa a trovare finanziamenti. La Polizia Municipale in quegli anni trovò investimenti proprio grazie a un progetto che aveva come compito quello di stanare, passatemi il termine, finanziamenti che c'erano, ci sono e ci saranno nelle regioni e sicuramente in Europa. Se diciamo sempre che è colpa degli altri non possiamo, come dire, candidarci a fare il sindaco. Penso ci sia differenza tra fare il sindaco in un modo e in un altro. Penso ci sia differenza tra me e Luciana Cappelli. Gli elettori decideranno. Luciana Cappelli, io prima l'ho interrotta, lei stava iniziando, lei parlava di scuole e quindi di servizi. Sì, perché non posso fare a meno di parlare delle finanziarie di questo governo. Sono stati tagliati i soldi alle scuole e questo cascherà addosso oggettivamente ai comuni, anche se non hanno la responsabilità diretta. Questo è avvenuto su tutto il pacchetto casa. Il governo Prodi aveva messo moltissime risorse sulla casa e il governo Berlusconi le ha tolte tutte. In questi giorni, di conseguenza a questo, finalmente si sono risbloccate delle risorse regionali per fare un po' di manutenzione alle residenze pubbliche. Nello stesso tempo ai comuni gli è stato tolto l'isci. Se ci ricordiamo Prodi aveva tolto il 40% del l'isci sotto a un certo reddito e invece il governo Berlusconi, e continuo a ripeterlo, ha tolto l'isci anche alle ville di Moratti. Questo significa che non c'è equità e che quindi i comuni hanno meno risorse che nel passato e più domande e più pressione. Nello stesso tempo sulla protezione sociale, parlo di scuola, noi siamo passati sempre per i tagli dello Stato ad avere una spesa per il sostegno all'handicap, che è una grande tradizione di civiltà e di attenzione della nostra città da sempre, una spesa che è diventata cinque volte di più. Naturalmente abbiamo continuato a sostenerla, ma le difficoltà economiche sono importanti soprattutto perché queste sono accompagnate dalle difficoltà del lavoro delle famiglie. Francesco Gracci, sui servizi da erogare ai cittadini. Sì, io penso che l'isci è stata tolta sulla prima casa dal governo, credo solo sulla prima casa. Anche la prima casa di Moratti. È sulla prima casa. Non ho cominciato a parlarvi addosso. No, no, senza discussione. Dicevo questo qui, ecco, a parte questa mia precisazione, io sono convinto che bisognerà molto attivarsi per incentivare e aiutare la famiglia, perché abbiamo parlato tanto, abbiamo parlato di tante cose, però ci siamo dimenticati del soggetto, delle persone, dell'uomo, del cittadino. Dov'è che si estrinse le qualità di una città? Nella famiglia, noi sosteniamo molto la famiglia, quindi noi saremo per il quoziente familiare, rivedere un pochino anche l'erogazione e quindi la detassazione di certi servizi in base al quoziente familiare. E poi un'ulteriore cosa, dove non ci sono risorse, si fa un po' di necessità a virtù, io ho visto anche all'Ido di Camaiore, nel comune di Camaiore, no, mi faccia finire un attimo solo, è il project financing, per cui... Che molti comuni hanno valutato. E molti comuni adottano, quindi si dà in appalto certi lavori e poi si ha un ritorno nell'utilizzo.